Che il comune di Villanova prenda esempio dal nostro comune a Busseto, sempre presente per il benessere animale e delle colonie feline. Non si chiede chissà cosa, ma una convenzione per le sterilizzazioni per il contenimento del randagismo. Così scrivevano pochi giorni fa sulle pagine Facebook, citando il nostro servizio Tg in cui facevamo un appello per l'adozione e la sterilizzazione dei gatti di una nuova colonia a Villanova d'Arda, a cui il comune non sta provvedendo. Siamo stati a verificare la situazione di Busseto, dove abbiamo avuto conferma della convenzione con il veterinario del paese. Si parla di in totale circa 4-5 colonie ufficiali e i gatti che sono all'interno delle colonie hanno la possibilità di essere sterilizzati tramite la convenzione che abbiamo con il veterinario del paese, la clinica veterinare del dottor Concari. Con loro ogni anno viene rinnovata questa convenzione dove i gatti che hanno necessità e vengono catturati vengono sottoposti alla sterilizzazione per evitare queste nascite incontrollate. Per quanto riguarda i numeri di gatti sterilizzati all'incirca nell'anno sono circa sulle 14 gatte annuali, poi insomma ci sono dei numeri che possono variare ma quello sono a gestione delle volontarie. A proposito dei volontari, urge aiuto per il periodo invernale. Si cercano volontari di tutti i tipi anche soltanto per piccoli stalli, aiuto per il periodo magari invernale o magari anche quello dove ci sono più nascite e per cercare di alleggerire il lavoro di quelle ormai veterane che ci sono. Chi fosse interessato può rivolgersi all'ufficio anagrafe canina e felina del comune.